Una meravigliosa serata come pubblico, come ambiente di San Siro. Sicuramente belle emozioni a livello di serata. Per quanto riguarda la professione si porta al fatto che la squadra comunque è rimasta in partita, è stata ordinata sul campo, cosa assolutamente non scontata in un ambiente del genere. Prendendo gol subito, tra l'altro, purtroppo abbiamo preso di gol ancora su palle ferme e c'è rischio magari in alcuni momenti di andare in grossa difficoltà. Invece non lo siamo, ma abbiamo comunque tenuto bravo, palleggiato anche discretamente in alcuni momenti. Grazie. 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 tra l'andate e ritorno, un paio di palle giuste per provare a fare un po' più di paura al mino le avete anche avuto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.